Musica 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 Sono forzando per me a mangiare se posso digerire o da stupine Per me la regata comincia adesso Musica 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 Che abbiamo convenuto all'opzione sud di meglio fare una ruota più lunga o più veloce e qui adesso fu verso Finisterre e poi giù a Roma non con gli alisei perché non è l'aliseo è un vento dal nord est, un marico e comunque è buono per andare veloce Siamo in discesa verso le azzorre, mancano 600 miglia quindi a questa velocità un paio di giorni e ci siamo Ed è il primo step, poi c'è ancora tanta altra strada da fare per Guadalupe La flotta è dietro di poco e va tutto bene A parte questa piccola varia, quello che è rimasto del canarde Stiamo sempre veloce, ho mai seguito l'avvicinamento Per cui c'è le altre luoghe in qualche momento da questo tracento avvicinato E' una volta nuove e medie, 12-16 La colazione di Alessandro, Riccardo, Montel Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti